Se i partiti ai quali faccio riferimento non avessero deciso per il criterio del rinnovamento, la mia prima scelta sarebbe stata Giovanni Carbonella. A chiarirlo subito è il presidente della provincia Massimo Ferrarese, appena uscito dal suo ufficio dopo l'incontro di ieri con l'ex parlamentare Brindisino, candidato in pectore del Partito Democratico. Prima ancora di dire quel che tutti già sapevano, vale a dire che Carbonella, secondo noi centro e Udc, non è il candidato giusto per la coalizione di centrosinistra, Ferrarese esprime tutto il suo rispetto e la sua stima nei confronti dell'attuale presidente provinciale del PD, considerato alla stregua di un padre della politica Brindisina. Carbonella è in cassa con stile ed annuncia che relazionerà di fronte al proprio partito rispetto agli esiti di questo incontro solo il 2 gennaio prossimo, ma soprattutto, pur non confermando ancora ufficialmente quel passo indietro, quel gesto di responsabilità che molti attendono, chiede voce in capitolo nell'individuazione di un eventuale nuovo candidato. Nessuno dei due protagonisti del faccia a faccia lo conferma, ma in discrezioni vogliono, che l'ex deputato abbia già un nome in mente, quello di Rosario Almiento, avvocato molto noto in città, ma soprattutto, come richiesto dai centristi, lontano dalla politica attiva. I prossimi giorni ad ogni modo saranno risolutivi. Tutto questo in attesa che la prossima settimana Futuro e Libertà, con un gruppo di soggetti politici a supporto, sveli il nome del proprio candidato da sottoporre verosimilmente agli alleati del PDL, che sono più in ritardo e scioglieranno le riserve solo dopo l'Epifania, o forse da contrapporre al nome indicato dai berlusconiani nelle primarie di coalizione.